Musica 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 Dopodiché noi vediamo la forma della ciotola al calco ogni pancia diversa quindi abbiamo le pancie allungate come questa, le pancie più arrotondate, un'unica diversa dall'altra Musica E' arrivata la Tavia Freguglio Musica E' Daniela, sono i femmini che adesso va a cuocerci finalmente portando per almeno la mia cittura e ti ringraziamo per averci ospitato e lei la chiama la casetta Musica Musica Sara ha una storia molto speciale da raccontarvi Noi l'abbiamo conosciuta un po' tempo fa quando è regina e aveva voglia di fare con noi appunto il carco e il gesto del bacione adesso lascio la parola a lei Musica 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 Musica